Il maltempo ha letteralmente paralizzato lo sport, almeno per quanto riguarda la provincia erpina. Dopo l'annuncio da parte della FIGC Campania del rinvio delle gare che vedranno coinvolte le squadre della provincia vellinese, è arrivato anche quello della FIPA Virpini-Asagno, presieduta da Felice Vecchione, che per quanto riguarda i confronti territoriali, dalla prima divisione in giù per intenderci, ha rinviato tutte le gare. Per quanto riguarda le competizioni regionali e quindi Serie D e Serie C, la federazione ha deciso di valutare per singole giornate. Qualora le condizioni climatiche, ma soprattutto la viabilità, non dovessero migliorare, l'annuncio dei rinvii arriverebbe direttamente nella giornata in cui sono previste le gare. Non ci saranno problemi invece per la gara della Tripalda Volley. I sabatini, in occasione dell'undicesima giornata del Gironne G del campionato di Serie B nazionale, affronteranno il Marigliano in uno scontro che potrebbe regalare a Piccariello e compagni i primi punti sotto la guida tecnica di Michele Romano.